Che cos'è la libertà finanziaria? Online si trovano tante diverse definizioni di questo termine e quello che mi preoccupa è che la maggior parte di queste definizioni vengono date dai guru della libertà finanziaria che si sono arricchiti e che vogliono venderti, guarda caso, l'ultimo fantastico mega video corso per diventare anche tu libero finanziariamente subito e senza sforzo. Io di solito diffido dei guru, diffido degli esperti, diffido di coloro che hanno un interesse economico dietro la tua comprensione di qualcosa perché si rischia di avere una comprensione deviata, incapsulata, incorniciata dentro l'interesse di qualcun altro. E allora vorrei ragionare insieme a te per capire che cos'è questa libertà finanziaria e quali pericoli ci sono se non comprendo bene il senso di questo termine. Facendo ricerche online ho incontrato ben sette tipologie di personaggi che hanno un loro modo di intendere la libertà finanziaria. Libertà finanziaria vuol dire avere abbastanza soldi da non dover pensare ai soldi. Ecco, questo è l'esempio del ricco, colui che crea un'equivalenza tra libertà finanziaria e ricchezza, per cui l'obiettivo è fare soldi, avere soldi, averne sempre di più, tanti da non doverci più pensare per il resto della tua vita. Ma in realtà la libertà finanziaria consiste semplicemente nell'avere costantemente delle entrate superiori alle uscite. Ecco, questo è il tecnico, colui che studia un sistema per avere più soldi, guadagnare più soldi di quelli che si spendono e pensa che questa sia la libertà finanziaria. Dunque potrei rinunciare alla macchina, potrei rinunciare alle cene fuori, potrei rinunciare a vivere. Questa è la contropartita del tecnico, è il risparmiatore, colui che è sempre convinto che la libertà finanziaria sia un discorso di rapporto tra entrate e uscite, ricavi e spese, ma questa volta invece che concentrarsi sui guadagni e sull'analisi di come funziona il cash flow, si concentra sul risparmio, cercando di spendere sempre il meno possibile. Poi c'è l'investitore, quello che dice non devi lavorare per i soldi, ma devi lasciare che i soldi lavorino al posto tuo. È facile a dirsi, ma un pochino di meno a farsi. E allora, visto che ci dobbiamo rimboccare le mani, che tanto vale creare un business, magari un business online che ti permetta di lavorare con il tuo laptop mentre stai in spiaggia, in un luogo esotico, lavorando quando, quanto e come vuoi tu. Questo modello di libertà finanziaria, quello dell'imprenditore, dell'imprenditore digitale, negli ultimi anni ha avuto una grandissima ascesa. Io stesso ho tantissimi amici imprenditori digitali che vivono in luoghi esotici, ma ti assicuro che godersi la vita è tutt'altra cosa. Anche perché lavorare da bordo piscina è una doppia tortura. Non solo devi lavorare, ma devi lavorare con la continua tentazione di tuffarti in piscina. E poi, quando crei qualsiasi business, e questo te lo può dire qualsiasi imprenditore, i pensieri della tua testa, molte volte, creano una gabbia mentale. Non ti permettono le preoccupazioni, le responsabilità, le persone da coordinare, di sentirti ed essere veramente libero. E allora c'è quello furbo che pensa che libertà finanziaria significhi semplicemente non dover lavorare, ricevere uno stipendio, una pensione. Ma questo modello del pensionato sta avendo un grandissimo successo nei media. È nato persino un movimento globale che si chiama Movimento FIRE, Financial Independence Retire Early, libertà finanziaria, pensione anticipata. Eppure non è così facile essere baby pensionati. La settima e ultima interpretazione di libertà finanziaria è quella esemplificata dalla frase Se il tuo lavoro è fare ciò che ami, non dovrai lavorare veramente neanche un giorno in vita tua o versioni varie di questa frase che sostanzialmente esprimono l'idea che libertà finanziaria sia fare di lavoro ciò che ti piace. Perché così se lavorare è necessario per guadagnare e se per lavorare fai quello che ti piace, allora tu guadagni facendo quello che ti piace, allora in realtà non stai lavorando ma stai guadagnando ma stai... Mi sembra ci sia un po' di confusione. Io personalmente mi sono fatto l'idea che nel termine libertà finanziaria quello che è realmente importante non è la parte finanziaria, non sono i soldi. Finché penseremo al guadagno, ai soldi, a come guadagnare di più, a come spendere di meno, riusciremo a vedere solo una parte del concetto della libertà finanziaria. Quello che è realmente importante per capire cosa posso fare per raggiungere la libertà finanziaria è il primo elemento, è la libertà. Sì vabbè ma libertà di fare cosa? Libertà prima di tutto di lavorare scegliendo il nostro lavoro non solamente in base a un criterio economico ma anche in base a ciò che ci appassiona, ciò che stimola la nostra creatività, ciò in cui siamo realmente competenti, ciò che ci permette di compiere la nostra missione, la nostra vocazione di cambiare un pochino il mondo in meglio. Libertà finanziaria è anche libertà di vivere, vivere utilizzando le risorse a nostra disposizione, i doni che abbiamo ricevuto da questa vita, prima di tutto il tempo a nostra disposizione decidendo noi che cosa farne, non essendo schiavi di qualcun altro che con il ricatto del denaro ci obbliga a dedicare il tempo a qualcosa che vuole lui. E allora potremo utilizzare il nostro tempo per fare ciò che è realmente importante per noi, essere liberi di utilizzare il tempo per ciò che ci rende veramente ricchi. E infine libertà finanziaria è anche libertà di cambiare, cambiare idea, cambiare interessi, cambiare luogo nel quale viviamo, viaggiare, cambiare stile di vita, cambiare abitudini, cambiare poter essere completamente svincolati da obblighi imposti dalla parte finanziaria, dal denaro, dalla necessità di mantenere un posto di lavoro con il quale dobbiamo portare la pagnotta a casa ed essere liberi di scegliere chi essere veramente oggi. Sì vabbè è tutto bello ma praticamente stringendo che cosa devo fare? Beh io ti direi che devi utilizzare il modello di Federico e della ghianda. Chi è Federico? Federico è un mio amico e questo mio amico con la passione per la natura passeggiava e trovava delle ghiande. Queste ghiande non se le portava a casa, no queste ghiande le piantava nella terra. Beh qualche mese fa sono andato a fare una passeggiata con Federico che mi ha raccontato questo suo strano hobby, quello di piantare le ghiande e che cosa mi ha fatto vedere Federico? Mi ha fatto vedere una foresta, mi ha fatto vedere che queste ghiande innaffiate dalla pioggia con il passare del tempo sono diventate alberi. Cioè tu mi vuoi dire che per diventare libero finanziariamente devo piantare le ghiande? Beh in un certo senso potremmo anche dire di sì perché un'attività per portarti alla libertà finanziaria deve essere come una ghianda. Prima di tutto deve essere capace di generare un'entrata economica. Se io pianto al posto della ghianda un sasso l'albero non verrà mai fuori. Poi deve essere capace di crescere nel tempo proprio come la ghianda che nel tempo innaffiata dalla pioggia e con il passare delle stagioni ha generato prima una piantina e poi è diventata un forte e solito albero. E quindi deve essere un'attività scalabile e infine deve essere un'attività capace di vivere, crescere e prosperare indipendentemente dal tuo apporto personale. Altrimenti non sarai mai libero di pensare alle cose che sono realmente importanti per te perché dovrai pensare lì alla tua ghianda, al tuo albero che non cresce abbastanza o non cresce quanto vorresti per renderti libero finanziariamente. Insomma se vuoi raggiungere la libertà finanziaria devi trovare le tue ghiande da piantare e focalizzarti non sulla parte della finanza non sulla parte economica ma sulla parte che ha a che fare con la libertà sin dal giorno 1 perché la libertà non verrà dopo se non la trovi subito come diceva Seneca all'aumentare delle ricchezze aumentano anche le preoccupazioni. iscriviti al nostro canale